Partirei dalla buona partita che abbiamo giocato con lo Zenit, che deve essere proprio lo spunto per continuare nell'approccio di questo girone, dove chiaramente aver perso in casa è un fatto estremamente negativo per quanto riguarda la corsa ai primi due posti, però proprio perché è negativo ma nello stesso tempo abbiamo fatto una prestazione importante, seppur in emergenza contro una squadra che sulla carta dovrebbe essere o doveva essere la squadra favorita del girone, proprio questo ci deve dare proprio l'input per proseguire con questa inerzia e quindi quello che dobbiamo chiedere d'ora in avanti è di giocare partita per partita senza fare programmi di nessun tipo, perché chiaramente mi sembra scontato dire che il programma dovrebbe essere quello di vincere sempre, però siccome si sa che non sempre è così e soprattutto in questi ultimi periodi non ci riesce facilmente, credo che vada veramente vissuta questa prima partita in campo esterno contro uno Stelmet che è stata la sorpresa della prima giornata perché Ludwig Zurgh aveva fatto, è stata una grandissima impressione nel girone che aveva giocato nella prima fase dell'Euro Cup ed era partito, nella partita con lo Stelmet sembrava che dovesse dominare